Oh, ma cosa ci fai con la mia borraccia? Ah, è tua? È mia, sì. Oh, ma visto che sei tanto bravo, pallone d'oro, prendimi la traversa. Alla prima tentativa? Sì, ok. Oh, alla fine non sei così bravo, eh? Oh, ma quella chi è? Da dove va? Ma è impossibile che stai giocando a calcio questa. Oh! Poi ti insegno.